La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 20 ottobre, i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD potranno continuare temporaneamente a ricevere RAI 1, RAI 2, RAI 3, RAI News 24. Per ricevere gli altri canali RAI, sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati. Per informazioni sulle agevolazioni per il ricambio dei televisori e dei decoder consultate il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it Wow! Straordinario! Oral-B! Go Electric! Chiacco! Quando la voglia di staccare chiama Devi solo goderti il momento Con la merenda giusta Che piace a tutti Croccante copertura di cioccolato fondente Morbida crema di latte fresco Kinder Pinguì! Ci piace così! Amphibios è la tecnologia Geox impermeabile e traspirante Per questo la pioggia ci scivola addosso Geox respira È diventato un problema quello delle magliette Una volta collezionavo solo special edition e pezzi unici Poi la cosa mi è sfuggita di mano Non ci ho dato peso finché non ne ha risentito il lavoro E la vita privata Ma per fortuna c'è Vinted Fai una foto, la carichi e vendi senza commissioni ad altri iscritti alla community Così liberi spazio e ci guadagni in un colpo solo Scarica Vinted Non lo metti? Mettilo in vendita Ogni rutta di Capitan Findus porta al pesce migliore per i suoi gratinati Fatti con merluzzo sfilettato fresco e surgelato entro tre ore Così croccanti e squisiti Che per innamorarsene basta un morso Gratinati di Capitan Findus Sali a bordo E da oggi prova le delizie da mare Con filetti di merluzzo grigliati e una salsa gustosa Oggi siamo da Margherita, una cliente Enel Energia Margherita, la tua specialità? Fare mille cose E in cucina? In ufficio vorrei dire Sport? Corro I ragazzi, corro a prenderli Mar, perché sei cliente Enel Energia? Perché con voi è una cosa in meno a cui pensare Fidati di chi ha scelto la tranquillità di Enel Energia E con Scegli Oggi hai la tranquillità del 30% di sconto sul prezzo della componente energia Bloccato per due anni Scegli un domani migliore Chiama il numero verde o vai su enel.it A volte bisogna dire di no E quando dici di sì, per loro significa tanto Kinder Cioccolato è fatto su misura per i bambini Perfetto per dire sì a un momento dal gusto unico Kinder Cioccolato Piccola barretta, grande bontà Non riesco a trattenerla Letteralmente Tenna discreet Assorbe senza compromessi Asciutta senza pensieri Così sottile Protegge come tenna Un hamburger anzi sei Apri la app Ding dong Glovo Il tuo momento preferito Il tuo gelato preferito Ding dong Glovo Che bontà Scegli ciò che vuoi Ding dong Glovo Ordina qua Ordina un glovo Ci andiamo noi Ding dong Glovo Pallottaggi per i sindaci Affluenza in calo rispetto al primo turno Alle 12 ha votato il 9,73% I seggi resteranno aperti fino alle 23 e poi domani fino alle 15 La ragazza di 15 anni uccisa a Brescia da una fucilata Spararle non è stato il padre che si era autoaccusato Ma è il fratellino di 13 anni È in gravi condizioni la donna di 32 anni ha coltellata Milano dopo una rissa I carabinieri esaminano i filmati delle telecamere di sicurezza nella zona per ricostruire la dinamica Germani a prove di governo dopo i colloqui dei giorni scorsi Verdi danno il via libera alle trattative per un esecutivo con SPD e Liberali Sul tappeto rosso della festa del cinema arriva Johnny Depp accolto dai bambini L'attore americano protagonista di un incontro con il pubblico Juventus Roma la sfida di sempre Stasera allo stadium Allegri contro Mourinho Il Milan solo al comando in attesa della partita del Napoli con il Torino Il parco con il cane Se me vedesse mio zio vignologo E son qui Per lo sporco invisibile acido acetico Che acidume Con dashpots extra agilizzanti Le macchie sbagliscono i batteri con loro Geniale È più che pulito È pod Bravo Tenere fuori dalla portata dei bambini Pubblicità Lo sguardo di Capitan Findus è così profondo Da custodire il segreto dei suoi bastoncini Filetti di merluzzo sfilettati freschi e sorgelati entro tre ore Come dice lui sotto la panatura si sente il mare Bastoncini di Capitan Findus Sali a bordo E per una cena diversa dal solito Scopri il gusto dei fishburger Ultima call È ora di Just Eat Scarica l'app Battito di pipistrello Urla di fantasma Con Kinder prepari un Halloween da paura La formula per un fantastico Halloween Un po' di fantasia E le bontà Kinder Halloween Kinder Preparati a far festa Hai molti vestiti da vendere ma non hai il tempo di farlo? Prova Vinted Con l'app Vinted vendi velocemente quello che non vetti E trovi anche i vestiti e gli accessori più trendy a ottimi prezzi Non pago commissioni per vendere Quindi quello che guadagno è tutto mio In pratica suoto l'armadio e mi riempio le tasche Vendere è facile Fai una foto, la carichi su Vinted e vendi ad altri iscritti alla community Così recuperi un po' di quello che hai speso per il guardaroba Vinted, scarica l'app anche tu Non lo metti? Mettilo in vendita Farei volentieri a meno di cambiare la lavatrice Ma questo è il terzo guasto La terza riparazione La terza fattura Vediamo La sua lavatrice è piena di calcare Usi Calgon ad ogni lavaggio È raccomandato dalle migliori marche di lavatrici Evita i guasti e le spese impreviste Dato che alle basse temperature è difficile eliminare i batteri Puoi provare Calgonigene più Gel Elimina fino al 99,9% dei batteri presenti nella tua lavatrice E previene il calcare Facciamo un giro nel bosco? Vasco? Film Film Merenda Merenda Morbido pan di spagna Un cuore cremoso al latte E una golosa copertura al cacao Kinder Delice Il gusto dell'intesa Mi suonate qualcosa di più allegro? Molto bene Oh sì Lexa, aggiungilo alla mia playlist Allegria Aggiunto alla playlist Allegria Per la polvere ho come una vista laser Ma ho pulito l'altro giorno e si è già riprodotto Ma manco i criceti Ma che fatica l'aspirapolvere E con i panni mi servono otto braccia come i polpi Ho la soluzione Vado di swifferone Il piumino imprigiona la polvere senza spostare niente Presa La scopa aggiuffa la polvere anche negli angoli Proprio come una calamita Basta faticare Inizia a swifferare La scopa aggiungi la polvere anche negli angoli Ballando con le stelle Questa sera 21 e 20 Rai Premium Il passato e il futuro della nostra tv Le cose sono cambiate Sono cambiate nella realtà Quindi di riflesso in televisione Tutti i programmi televisivi e le serie televisive parlano di noi JR è uno di casa C'è un legame con il pubblico quasi di parentela Uno strumento così potente può significare ancora moltissimo Zoom La tv che racconta e ci racconta Dal 30 ottobre ogni sabato in seconda serata Rai Premium La televisione sta cambiando in tutta Europa Dal 20 ottobre i televisori o i decoder che non ricevono i canali in alta definizione HD Potranno continuare temporaneamente a ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 Per ricevere gli altri canali Rai Sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati Per informazioni sulle agevolazioni per il ricambio dei televisori e dei decoder Consultate il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it Wow! Straordinario! Oral-B! Go Electric! Non tutto è come sembra Kinder Cereali invece è come lo vedi Gusto autentico dei cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder Kinder Cereali, buono come lo vedi I diffusori elettrici Airwick trasformano la tua casa in un oasi naturale Fatti con il 100% di oli essenziali naturali riempiono ogni angolo della tua casa con una fragranza che dura a lungo e sa di natura Airwick lascia di sorprendere dalla natura La bontà è una scelta La bontà è una scelta come la nostra nuova ricetta con cacao dal nostro programma di sostenibilità e solo nocciole italiane selezionate E' il gusto 100% naturale di lo hacker ora più che buono lo hacker che bontà Ace presenta condominio surace gli infiniti tipi di storco Labirintico E quando se ne esce? Ce l'ho io la via di fuga Prova Ace Candeggina Più nella nuova bottiglia Squeeze per igienizzare con precisione Per un pulito litologico A ogni pulito il suo Ace Ecco la pizza mamma Bruciore allo stomaco e sensazione di acido in bocca? Riflusso e cattiva digestione possono esserne la causa Gavis con bruciore in digestione forma rapidamente una barriera protettiva che impedisce reflusso e neutralizza l'acido in eccesso Così puoi continuare ad assaporare la vita in tranquillità Per un rapido sollievo Gavis con bruciore in digestione Capita a tutti di ricevere un regalo che non metteremo mai Per questo uso Vinted Invece di riempire l'armadio di cose che non mi servono Guadagno spazio e denaro per quello che mi piace davvero Vinted ha milioni di iscritti in Italia e all'estero Quindi vendere è facile e veloce In più non paghi commissioni sulle vendite Quello che guadagni è tutto tuo Vinted, scarica subito l'app Non lo metti? Mettilo in vendita Chiacco! Quando la voglia di staccare chiama Devi solo goderti il momento Con la merenda giusta Che piace a tutti Croccante copertura di cioccolato fondente Morbida crema di latte fresco Kinder Pinguì! Ci piace così! Il bello delle opinioni È che possono essere cambiate Prova la nuova rete Wind3 Il primo mese è gratis E senza vincoli Se non la provi non ci credi Wind3 Molto più vicini Con i piatti è sempre la stessa storia Per la lavastoviglia ci vorrebbe qualcosa di rivoluzionario Non in questo senso Fairy Platinum Plus Proviamo Le nuove Caps Fairy Platinum Plus Con la loro formula 4 in 1 Sono le migliori contro lo sporco ostinato Voilà Fairy Rivoluziona il pulito È un uomo di successo Diego Mancini Professore Le convoco la sua equip E ha una donna E una famiglia che ama Mi ha restituito fiducia nell'amore Vuoi sposarmi? Non desidero altro Il cuore del suo piccolo Paolo però Rischia di arrendersi Aiuto Papa Sarà per amore Che commetterà un grave errore Per amore Entrerà in un vortice dal quale sarà difficile uscire Cosimo padrone Mi ha scoperto un mare cattato Vole un professore Che non debita con noi Cosa vuoi da lui? Mi deve salvare la vita Non perderà la sua Per la regia di Cinzia TH Torrini Fino all'ultimo battito Venerdì 21 e 20 Rai Premier La spentola Wow Straordinario Oral B Co-Electric Ci sono cose così speciali Che non puoi tenere solo per te Nutella Biscuits Il fragrante biscotto Con un cremoso cuore di Nutella Una grande emozione Nata per essere condivisa Nutella Biscuits Un cuore grande Ace presenta Condominio Surace Gli infiniti tipi di storco Labirintico E quando se ne esce? Ce l'ho io la via di fuga Prova Ace Candeggina Più Nella nuova bottiglia Squeeze Per igienizzare con precisione Per un pulito Lito logico A ogni pulito Il suo Ace Sui colli di Bologna Baza È l'espressione tipica Di un regaz bolognese Nel momento in cui trova Un panino con la mortadella E lo condivide Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna Godersi la vita Dal 1661 Per essere un king Non basta avere la barba Prenditene cura con King C. Gillette L'unica linea completa Per la cura della barba Per essere padrone Del tuo stile Ogni giorno Style like a king Ogni rotta di Capitan Findus Porta al pesce migliore Per i suoi gratinati Fatti con merluzzo Sfilettato fresco E surgelato Entro tre ore Così croccanti E squisiti Che per innamorarsene Basta un morso Gratinati di Capitan Findus Sali a bordo E da oggi Prova le delizie da mare Con filetti di merluzzo Grigliati E una salsa gustosa La mia ricetta del benessere Mangiare sano E fare check up periodici Mi piace tenermi in forma E contare su una protezione assicurativa Per tutta la vita Il tempo è prezioso Per questo prenoto Senza attese le visite Nei migliori centri di cura Per tutti i modi Di vivere la salute C'è salute e benessere Di Generali Italia Un'unica polizza Per te e la tua famiglia Potrai avere in regalo Un check up E un teleconsulto medico Ti aspettiamo in agenzia Iniziative soggette a limitazioni Prima della tuttoscrizione Leggi le zette informativo E dettagli su generali.it Generali Partner di vita It all comes and goes Il Galletto Vallespluga Cresce tra le Alpi Acque pure E aria buona Con lui Il lieto fine è assicurato Galletto Vallespluga Una storia buonissima Chissà perché Tutte le cose più belle Sono proibite Per fortuna c'è Gioiella Con i suoi prodotti Pieni di freschezza e bontà Per dare a tutti noi Un piacere senza limiti Gioiella Tutto il gusto Che nessuno ti dà La burrata L'eccellenza nel caffè Si raggiunge Scegliendo i chicchi migliori E tostandoli alla perfezione Fammi godere il suo caffè È buono? Non lo caffè È buono vero È buono vero Nuovo Pantene By Chiara Ferragni Protegge la cheratina Capelli 100% più forti Forti come noi Pantene By Chiara Ferragni Sous-titrage ST' 501 Sballando con le stelle Questa sera 21 e 20 Rai Premium La televisione sta cambiando in tutta Europa Dal 20 ottobre I televisori o i decoder Che non ricevono i canali in alta definizione HD Potranno continuare temporaneamente A ricevere Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 Per ricevere gli altri canali Rai Sarà necessario avere un televisore o un decoder In alta definizione HD Tutti i televisori e i decoder Andranno comunque risintonizzati Per informazioni sulle agevolazioni Per il ricambio dei televisori e dei decoder Consultate il sito NuovaTVDigitale.mise.gov.it